Ciao Fiocchini! Tra l'altro Fiocchini oggi è anche a tema perché abbiamo un libro che c'entra con il freddo e con il riscaldamento con la legna. Il libro è di Lars Mitting, Norwegian Wood, non la canzone dei Beatles, non il libro di Murakami, ma il metodo scandinavo per tagliare, accatastare e scaldarsi con la legna, che è un libro incredibile. Ve lo racconto, vi racconto un po' come è organizzato. Penserete, sei un pazzo? Provate a leggerlo e non ne potrete più fare a meno. Prima di tutto, UTET 2016, l'edizione italiana, 22 euro questa edizione qui, ma credo che quella nuova costi 26, più o meno. Ho dato una sbirciatina prima, di che cosa parla il libro. Allora, non è un saggio, non è un manuale, non è un romanzo, ma contiene delle storie, contiene delle informazioni scientifiche, contiene delle idee, delle applicazioni e delle tecniche. Quindi è un ibrido. È un ibrido sulla tradizione norvegese, scandinava e in generale, di scaldarsi con la legna. Quindi tagliare, accatastare, bruciare la legna, che è vista dall'autore proprio come una filosofia di vita. Nel fare questa cosa, l'autore appunto ci racconta storie di vari personaggi associati a questo mondo qui, ci fa vedere alcune immagini, ci fa recensioni di alcune tecniche del perché si fa in un modo o non in un altro. Quindi è chi è indirizzato questo libro? Allora, questo libro è ovviamente indirizzato a tutti quelli che amano riscaldarsi con la legna, e va bene, fino a qui ci siamo. Ma in verità, questo libro, che è nato proprio per il, diciamo, per il mercato norvegese, è stato poi tradotto in 22 paesi, qualcosa del genere, perché si capisce proprio l'amore che Lars Mitting, l'autore, ha per questo tipo di filosofia. Quindi ci trasmette questa filosofia. E' un po' come leggere un libro, non so, come lo zen o l'arte della manutenzione della bicicletta, ok? C'è una roba dove, anche se non te ne frega niente di quello che c'è scritto, lo leggi per il contenuto filosofico che contiene, per gli insegnamenti che ne puoi trarre, perché si vede, non so, l'amore per la natura che hanno i norvegesi in generale, per piantare gli alberi, l'importanza che danno agli alberi, magari cose che noi diamo per scontate, sostanzialmente. Come ho organizzato questo libro? Vediamolo dal punto di vista editoriale. Allora, copertina rigida, in cartone, interno tutto colore, se si dice ancora così, si vede? Sì. Non lucido però, però non fastidioso, diciamo, per il prezzo ottimo. In verità, le edizioni Utrecht mi piacciono molto, solitamente. Dopo magari me ne leggo un pezzettino. Come ho organizzato il testo? Ok, qui andiamo... Questo forse vi farà ridere, però è così. Allora, c'è un'introduzione, e poi una bella parte che occupa circa un centinaio di pagine sugli attrezzi. Ad esempio, vi faccio vedere... Che ne so? Qua parla di motoseghe. Fa vedere alcuni esempi di motoseghe. Poi ti fa vedere... Ti fa vedere alcune marche di motoseghe, alcune marche di accette. Ok? E quali sono i punti forti di un'accetta o di un'altra. Ci sono pagine e pagine su quali sono le accette migliori, quando vanno affilate, quando non vanno affilate, a chi sono indirizzate certi tipi di accette, certi tipi di motoseghe. Fa ridere, ma è così. Poi c'è tutta una parte successiva, dove si vede già questa immagine, è indicativa sull'accatastamento della legna. Ok? Perché? Come si accatastano in vari modi, quali sono le... E questa è una parte un po' scientifica, nel senso che spiega l'essiccamento della legna, la percentuale di umidità che deve contenere, eccetera, eccetera, eccetera. E come avere una legnaia, da noi meno ovviamente, ma nei posti dove fa davvero freddo, sia importante per la sopravvivenza. E poi una parte finale sulle stufe. Adesso vi faccio vedere. Anche la parte finale, qualche immagine. Ok? Non so. Vediamo, ad esempio, alcune stufe che faranno vedere qua. C'è una Iotul, poi c'è sempre un'altra Iotul, 116 in una pubblicità, una stufa in pietrollare di qui. Questa parte è interessante anche dal punto di vista proprio fisico e del saggio scientifico, se vogliamo. Perché contiene varie indicazioni su come funziona l'inquinamento da polveri sottili delle stufe, dei camini, del... come si può ridurre l'inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera. Molto interessante, se vi piace l'argomento. Utile se vendete stufe, ovviamente, o se siete per la biomassa. E poi, vabbè, c'è una parte finale sul fuoco, sul significato che il fuoco ha per l'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una parte finale filosofica... È difficile parlare di questo libro, perché è davvero strano, ma è proprio bello. Quindi vi consiglio di leggerlo. Se avevate il dubbio se comprarlo o meno, compratelo. Ora magari vi leggo un pezzettino iniziale. All'inizio c'è una poesia sul fuoco. Allora, si chiama Il profumo di legno fresco di Hans Borli. Credo sia un poeta. Il profumo di legno fresco è una delle ultime cose che dimenticherai quando il velo si chiuderà. Il profumo di legno bianco e fresco nel tempo della linfa in primavera. È come se stesse passando la vita fatta persona, a piedi nudi, con la rugiada nei capelli. Il suo ave e nudo sentore si genuflette muliebre e biondo nella quiete che hai dentro. Suona le tue ossa come flauti di salice. Con una gelata sotto la lingua cerchi fuoco per farne una parola. E sai, mite come il vento del sud nella mente, che al mondo esistono ancora cose su cui contare. inizia così il libro. Introduzione Il vecchio e la legna e parla appunto della tradizione del gelo e del freddo nei paesi scandinavi. Riesco ancora a rievocare tutte le sensazioni del giorno in cui mi resi conto che un fuoco a legna è ben più di una fonte di calore. Non era una gelida giornata d'inverno, anzi, era a fine aprile. Avevo già montato da un pezzo gli pneumatici estivi sulla Volvo e ripulito gli sci dalla sciolina di Pasqua. Eravamo avvenuti ad abitare a Delverum appena prima di Natale e per sopravvivere alla seconda metà di un inverno non troppo rigido ci bastarono il riscaldatore per il blocco motore dell'auto e un paio di stufe a ventola. I nostri vicini erano una coppia di pensionati, brava gente, dell'allegere e laboriosa generazione del dopoguerra. Il marito, Ottar, rimase in casa fino al disgelo per via di una malattia ai polmoni. E in quel giorno di primavera, mentre espirava una leggera brezza e l'acqua di fusione intorbidiva i fossi, l'inverno che ci eravamo lasciati alle spalle era l'ultimo dei miei pensieri. Fu allora che arrivò un trattore con un rimorchio che si fermò ed entrò in retromarcia nel vialetto dei vicini. Il motore aumentò i giri e il rimorchio si inclinò e rovesciò nel cortile un enorme carico di legno di betulla. Enorme? Altroché! Era talmente tanta roba da lasciare una depressione nel terreno. Finiamo qui? Sì. È facile prevedere come andrà avanti ovviamente il racconto. Comunque non so se se si è capito sostanzialmente dove vuole andare a parare questo libro stranissimo. Vi consiglio di leggerlo come ho già detto prima. Ho qui un altro Utet che potrebbe diventare protagonista di un prossimo video. Vi faccio solo vedere. Nagnile Zovi autobiografia della neve Utet Noi ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.